è Robert in volo ragazzi anche con le piedi che sei più bello esatto che risente molto di più dell'influsso di un'implica prezzo di mare che si appoggia su un pastore e ci fa salire e ve ne stiamo per entrare 1,2,3 dovremmo iniziare a salire non appena scavalchiamo questo dente è proprio per la forma della montagna ecco, senti, è cambiata l'aria iniziamo a galleggiare la dinamica non è molto forte ci fa il galleggiare e ci da tempo di incontrare una termica ecco qua senti, senti, senti l'accelerazione verticale dal basso è un valore di scritto è un valore di scritto è un valore di scritto guarda che belle queste belle città guarda l'ombra, fai una ripresa all'ombra che spettacolo è un valore di scritto 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 e si è un valore di scritto è un valore di scritto Stiamo spazzolando il costone nel cercare una zona dove c'è maggiore ascendozza, un po' lì c'è la scelta, però non è che c'è una vera e propria termica, qui ci dov'è tornare un po' di otto. Qua la vermi ha comunque cilica, adesso magari sta un momento di pausa, poi riparte, pari più da la datata di critica e che vi fanno un problema decher. È importante che ad ora di rischiata. Grazie a tutti Destra 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.